E' stato Andrea Dilucente di Forza Italia ad aprire ieri sera la pattuglia dei consiglieri regionali convocati dal presidente Roberti a Palazzo Vitale per definire la griglia delle nomine prossime venture presidente, ufficio di presidenza e commissioni per quello che riguarda il consiglio regionale e poi le caselle mancanti a completare l'attuale giunta varata in formato mignon con soli due assessori, Marone e Cefaratti un vertice è quello del centrodestra che ha partorito una serie di decisioni che attendono a questo punto solo la ratifica dell'aula prima tra queste l'indicazione di Quintino Pallante per la carica di presidente del consiglio regionale candidatura sostenuta all'unanimità dall'intera coalizione risultata vincente alle elezioni di giugno insieme a Pallante andranno a comporre l'ufficio di presidenza per la maggioranza i consiglieri Stefania Passarelli alla quale andrà il ruolo di vicepresidente del consiglio regionale e Fabio Cofelici al quale spetterà il ruolo di segretario gli altri due componenti l'ufficio, un altro vicepresidente e un altro segretario spetteranno all'opposizione verranno divisi tra PD e Movimento 5 Stelle, questo per quanto riguarda il consiglio regionale che si riunirà per la prima donanza lunedì prossimo 24 luglio alle ore 11. In quella medesima circostanza verranno scelti i nomi che andranno a comporre le quattro commissioni permanenti, le quali solo successivamente sceglieranno al proprio interno il presidente di ciascuna di esse. Sul fronte della composizione della giunta regionale invece il quadro risulta essere più articolato. Lunedì, dopo l'espletamento degli adempimenti consigliari il presidente Roberti nominerà verosimilmente altri due componenti l'esecutivo e qui già c'è la prima notizia, giunta a quattro per il momento e non a cinque. Ad assumere il ruolo di assessore saranno Salvatore Micone di Fratelli d'Italia indirizzato all'agricoltura e Andrea Dilucente di Forza Italia al quale verrà assegnata la delega alle attività produttive. È questo lo scenario che apre la tredicesima legislatura salvo imprevedibili quanto improbabili colpi di scena. A contendersi il quinto posto da assessore che potrebbe essere assegnato tra l'autunno e l'inverno prossimi ci sono Michele Iorio e Armandino Degidio che si contendono il posto per Fratelli d'Italia e Vincenzo Niro dei Popolari per l'Italia. Quest'ultimo, proprio per rivendicare questa posizione, ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo romano di confronto con i rappresentanti delle segreterie nazionali del centrodestra. Ultima casella a dover essere coperta è quella del sottosegretario alla presidenza della giunta, casella residuale, che potrebbe servire ad accontentare qualcuno degli esclusi come Nicola Cavaliere o Roberto Di Baggio.